Inaugurata in via Tever a sud del comune costiero di Silvi la nuova sezione ragazzi della biblioteca, una struttura che avrà il compito di accogliere i visitatori in uno spazio luminoso e pensato esclusivamente per i bambini e ragazzi, da 0 a 15 anni ma che mette anche a disposizione un'area per gli adulti che li accompagnano. Siamo felicissimi perché abbiamo recuperato un luogo della città di Silvi, un luogo che verrà destinato ai ragazzi con il Bibliopark. Dunque veramente è una bellissima giornata, la cultura è importante, il nostro territorio si sta facendo tutto per rilanciarlo e soprattutto per dare spazi ai nostri ragazzi. La biblioteca per ragazzi si inserisce in un parco urbano aperto e vuole essere anche un intervento concreto per la riqualificazione di una zona della città nel passato troppo spesso dimenticata. Con due sale, una per i più piccolini e una per i più grandi. Una che ha una bibliografia che può interessare ai ragazzini dai 0 ai 6 anni e un'altra parte dai 6 ai 15 anni. C'è anche una bella novità, coloro che accompagneranno i ragazzi o i bambini potranno soffrire di un'ulteriore sala che è per tutti, che ha libri per tutte le età. Inoltre la novità assoluta è che al di fuori c'è un biblioparco. Il biblioparco che cos'è? È finalmente una struttura dove chiunque viene a prendere in prestito un libro nella biblioteca può servirsi d'estate o nelle giornate di bel tempo, può servirsi del parco attivo a questa struttura per portare a leggere tranquillamente il suo libro. Un microcosmo virtuale aperto al futuro con la possibilità di cogliere le opportunità che la tecnologia digitale offre attraverso l'utilizzo della rete Wi-Fi. Avere la possibilità di essere qui a due passi dalla spiaggia, poter leggere un libro in tranquillità, in un'area protetta, all'area aperta, sicuramente è una bellissima iniziativa. Tra virgolette si collega ad un'iniziativa che noi come Regione Abruzzo abbiamo appena lanciato, che si chiama Liberi Liberi, dove con un semplice QR code gli utenti possono scaricarsi un libro e leggerlo tranquillamente in spiaggia. La stiamo lanciando, abbiamo mandato i link a tutti i comuni in modo che possano distribuirlo agli operatori, agli albergatori, agli stabilimenti balneari. Sicuramente rappresenta una innovazione e un servizio in più per i turisti che vogliono leggersi tranquillamente un libro gratuitamente in spiaggia. Avremo sei sezioni dedicate a questi libri e una sarà proprio dedicata ai ragazzi e ai bambini.